Nato a Roma nel quartiere Talenti, Silvestrine è figlio di Luigi, architetto veneto, e di Luigia Mangano, arredatrice siciliana, è nipote per parte materna di Peppino De Filippo e cugino del calciatore Aldo Bet. Ha conseguito la maturità classica presso il Liceo Razio di Roma e successivamente si è iscritto, al corso di laurea in lettere, indirizzo, musica e spettacolo, dell'Università di Roma la Sapienza ma, attratto dal mondo della musica e dello spettacolo, non ha terminato gli studi. La grande passione che nutre sin da giovanissimo per la musica lo spinge a fondare un suo gruppo, I Agoni N. Cage, con cui si esibisce suonando nei locali notturni di Roma e Milano. Dopo un brave inizio come modello, nel 1992 esordisce nel cinema con un piccolo ruolo nel film Le Amiche del Cuore, per la reggia di Michele Placido. Nel 1994 si trasferisce a Londra e diviene, primo VJ italiano nella storia dell'emittente, uno dei volti di MTV Europe, conducendo in lingua inglese il programma The Morning Mix. Dagli studi di Camden Town conduce per tre stagioni vari programmi musicali, tra i quali The Afternoon Mix, Anging Out, Dial MTV, MTV Video Music Awards, MTV Select, It List Italia e It's Non Stop. In questo periodo Silvestrin si afferma per lo stile di conduzione giovanile e dinamico, affrancandosi dagli stereotipi del conduttore televisivo generalista. In particolare due dei programmi che conduce, Anging Out, che doveva inizialmente chiamarsi Anging With Enrico, e MTV Select, fanno registrare livelli altissimi di audience da parte dell'emittente europea e sono replicati, come format televisivi in diversi paesi europei. Nel 1996, durante il programma di Canale 5 Un Disco per l'Estate, cura il collegamento dallo Stadio Olimpico per il concerto di Vasco Rossi, contemporaneamente all'attività televisiva. Dal 1995 al 1997, è impegnato nella conduzione di alcuni programmi radiofonici per radio DJ, Rock It, Positive Vibration, Lunae Diretta e P.O. Box, e per Radio Rai, Radio Show Backstreet Boys, con la nascita di MTV Italia Torna in Patria e conduce soniche per due stagioni. 1997-1998 La prima chance nel mondo della recitazione dopo il rientro in Italia gli viene offerta nel 1998 da Marcello Cesena, che lo scrittura nel cast del film TV Amiche Davvero. Nello stesso anno conduce per Rai 2 il concerto del primo maggio da Piazza San Giovanni in Laterano a Roma. Per Rai 1 presenta il programma di musica dal vivo Taratata. 1998-1999 Nel 1999 fa parte della commissione artistica del cinquantesimo festival di Sanremo. Mentre nel 2001 è l'inviato di TG Verissimo all'interno della manifestazione Sanremese. Nello stesso anno fa ritorno ad MTV in occasione del Regeneration Day, ovvero il giorno in cui le frequenze di MTV passano in via definitiva su quelle dell'ex video. Music TMC2 Evento durante il quale intervista Bono Vox degli U2. Conduce, inoltre, i programmi MTV Supersonic. Mentre nel 2001 è l'inviato di TG Verissimo all'interno della manifestazione Sanremese. Nello stesso anno fa ritorno ad MTV in occasione del Regeneration Day, ovvero il giorno in cui le frequenze di MTV passano in via definitiva su quelle dell'ex video. Music TMC2 Evento durante il quale intervista Bono Vox degli U2. Conduce, inoltre, i programmi MTV Supersonic. Brand, New, MTV News e Coca-Cola Live Chiocciola MTV. Quest'ultimo assieme a Paola Maugeri. Per conto di MTV e, inoltre, l'inviato speciale agli MTV Europe Music Awards a Parigi. 1995, a Londra, 1996, a Rotterdam, 1997, a Milano, 1998, a Barcellona, 2002, e a Roma nel 2004. In quest'ultima occasione è la voce fuoricampo dell'evento. Conduce da Lisbona il Countdown Emas del 2005 insieme a Britanni Murphy. Nel 2005 lascia definitivamente l'emittente musicale MTV per dedicarsi esclusivamente alla carriera cinematografica. Silvestrina ha frequentato un corso di recitazione, dizione e movimento presso L. MTV Teatro Studio. Diretto da Lidia Biondi e Roberto Della Casa. Nel 2001 il regista Gabriele Muccino, che lo aveva già scritturato nel 1998 per Ecco Fatto e nel 1999 per Come Te Nessuno Mai, gli offre la grande occasione con la pellicola L'Ultimo Bacio. Film in cui avrebbe dovuto interpretare il ruolo del protagonista Adriano. Sfortunatamente in quel periodo l'attore sta girando la serie televisiva Via Zanardi 33, poi rivelatassi un flop, e si trova costretto a rifiutare la parte. In seguito interpretata da Giorgio Pasotti. Nel 2003 Muccino lo scrittura ancora in Ricordati di me, ove interpreta lo spregiudicato conduttore televisivo Stefano Manni. Al fianco di Fabrizio Bentivoglio. Laura Morante. Monica Bellucci. Nicoletta Romanoff e Silvio Muccino. Nel 2002-2003 partecipa alle prime due serie di cocktail d'amore su Rai 2. Affiancato da Massimo Coppola, interpretando il ruolo del perfetto nostalgico degli anni Ottanta. Sulla stessa emittente conduce Straculte nel 2004. Nello stesso anno lavora anche a Radio Città Futura e prende parte al cast di Chi ne sarà di noi? Di Giovanni Veronesi, assieme a Silvio Muccino, Elio Germano e Violante Placido. Inoltre, conduce con Paola Maugeri dal Circo Massimo l'evento benefico internazionale We Are the Future. Ideato da Quincy Jones e trasmesso in Mondovisione. In Italia da MTV. Nel 2005 interpreta Luca Pitana. Criminale deluso che tradisce per vendetta la banda di cui fa parte. Nel film Trille Low Cost Piano 17 dei Manetti Bros. Nel 2006 recita nel film Horror Il Bosco Fuori. Opera prima di Gabriele Albanesi e interpreta il ruolo di poliziotto in due fiction televisive. È l'ispettore Trombetti. Nei quattro episodi dell'ispettore Cogliandro. In onda su Rai 2. E Alessandro Berti. Nella sesta stagione di Distretto di Polizia. In onda su Canale 5. Quest'ultimo ruolo gli viene confermato anche per la settima e ottava stagione. Inoltre recita da co-protagonista accanto a Giuliana Vessio nel film TV drammatico La Notte Breve. 2006. Per la reggia di Camilla Costanzo e Alessio Cremonini. Ancora nel 2006 è curatore della colonna sonora della pièce teatrale Gino Non si tocca più di. Gian Paolo Morelli e Gianluca Anzanelli. In scena a Roma al Teatro dei Servi. Nel 2007 conduce il Festival Bar con la Iena Giulio Golia ed Elisabetta Canalis. Nel 2010 partecipa da co-protagonista alla serie televisiva I Delitti del Cuoco. Interpretando il ruolo del commissario Francesco Fattori accanto a Bud Spencer. Inoltre, prende parte da protagonista in Havana Film Project, esperimento televisivo di DJ TV che impegna quattro giovani registi italiani nella realizzazione di altrettanti cortometraggi su storie vere scovate a Cuba. Con al centro l'Havana e i suoi abitanti, cubani o non cubani, residenti o turisti. Nel 2011 torna sul grande schermo con la divertente commedia Come trovare nel modo giusto l'uomo. Sbagliato, in cui recita al fianco di Francesca Inaudi e Giulia Bevilacqua. L'anno seguente è la volta della pellicola Good As You Tutti i colori dell'amore. Adattamento cine dell'omonima commedia teatrale di Roberto Biondi, in cui interpreta Claudio, un introverso omosessuale siero-positivo. Nel giugno 2012 l'attore ha ricevuto il premio Margutta, evento culturale annuale presieduto da Gabriele Salvatores. Oltre che attore, silvestrine anche cantante, compositore musicista pluristrumentista, suona indifferentemente la chitarra, il pianoforte, le tastiere e la batteria. Ha fatto parte, oltre che degli agoni n-cage, delle formazioni Tempus Fugit, Ilr e Silvdre e Rement. Con quest'ultimo gruppo ha inciso un album dalle sonorità grunge, Larger Than Life, uscito nel 2004 su etichetta V2, Sony Music e dedicato al simpatizzante No Global Carlo Giuliani. Svolge l'attività di disc giochi professionista dal 2004. Nel 2013 entra a far parte dell'Accademia delle Teste Dure. La band DJ Axe, ed è produttore di alcune tracce dell'album Il Bello d'Esser Brutti, uscito il 27 gennaio 2015. Conduce su Radio Radio, emittente radiofonica laziale, Un Giorno Speciale, insieme a Stefano Molinari.